La prima edizione del nostro Milano Latin Festival è ricca in ballo, divertimento e tanta tradizione, ma non solo, c'è anche l'artigianato e anche la cultura culinaria e per questo siamo qua, nel ristorante Il Rincon di Lupita, il quale troverete nella nostra prima edizione del Milano Latin Festival dal 13 agosto al 29 settembre e vi sorprenderà con le loro degustazioni, la vera tipica cucina tradizionale equatoriana, non ve lo potete perdere, da qua sento un profumo incantevole, andiamo a espiarli. Buonasera, buon appetito, beh devo dire che avete finito di mangiare appena, vi è piaciuto? Claro che sì, veniamo sempre los viernes aquí. Infatti mi hanno detto che voi siete dei clienti abituali da qua, dal Rincon di Lupita, che piatto ti piace di più di quelli che fa Lupita? Il encebollato, l'arroz con pollo, tutti i platos che hai, sono americani, sempre dell'Equador. Ah, allora viva diciamo il Rincon di Lupita, ma ti voglio chiedere, voi sapete che c'è il Milano Latin Festival? Sì. Ah, lo sapevate? Beh, ci sarà anche il Rincon di Lupita dentro il Milano Latin Festival, per cui potete anche andare a mangiare lì, questo non lo sapevi però, è un'informazione che ti do io direttamente. Perfettamente. Allora ci siamo o non ci siamo per il Rincon di Lupita nel Milano Latin Festival? Sì che ci siamo, di sicuro. Di sicuro. E anche tu? Sì, sì, io también, perché i platos che fa Lupita sono molto ricchi, sono molto buoni e si come molto bene con Lupita e speriamo che la gente anche venga al festival e assaggia i platos che fa Lupita qui nel suo ristorante, che sono molto ricchi. Diciamo che niente da dire e niente da fare, noi ci siamo. Al festival latinoamericano. Dove? Sì, no. Milano Latin Festival, solo per voi. Io ci sono. Io ci sono. Noi ci siamo. Io ci sono. Io ci sono. Io ci sono. Io ci sono. Oh, oh